Buonasera, buonasera a tutti. La Fondi del 19, facciamo questo video soprattutto per i tanti fondamentali e vi facciamo vedere come la situazione con il nuovo provvedimento del governo che richiede che l'attività commerciale come i bar debbano servire estremamente al tavolo quindi questa è la situazione attualmente in piazza Fondi che stanno trovando a fare lavori e vediamo anche i lavori, stiamo chiamando la parte terra. Anche a parte delle pressioni c'è proprio la masterina, sono ancora i lavori che stanno facendo in piazza per sistemare il basalato in pietra. Buonasera, ciao Claudio e quindi questi sono i lavori che stanno facendo per quanto riguarda il tax che c'è di Sant'Antonio, dovete chiaro quello che sta succedendo, Luca buonasera. Questa era la situazione, questo arriviamo sotto il taxato e ci rendiamo conto di come stanno cambiando le situazioni con questo nuovo provvedimento del governo, poi sicuramente da parte di Coppedegli, questo è il Sant'Amaria, un buon 80-90% delle persone, costa la masterina. Giuseppe, grande Riccardo, ti posso lavorare? Grande, ciao! Questa è la situazione alle 7 di sera. Bisogna vedere proprio tutta la piazza, così. c'è un po' di gente, bisogna dire che di solito è anche peggio invece, stavolta c'è un po' di movimento, c'è la fuori dalla farmacia, ma è abbastanza normale. Ciao, buonasera, ciao! e questa è la situazione a fondi. Giovedì sera, il giorno prima che poi da domani ci sarà il mini lockdown da mezzanotte alle 5 si tornerà a vivere con le autocertificazioni, questo è quello che poi comporta, lo riparte ormai sotto il castello. Questa è la situazione alle 7 di Sera. Giuseppe, stasera, eccoci, adesso andiamo in piazza, vediamo un attimo come è la situazione. Il nuovo provvedimento del governo per i fondamentali lontani prevede che qualora un bar non abbia servizio al tavolo debba chiudere. Ecco qui, per cui chi non ha il servizio al tavolo è costretto a chiudere. Ecco qui, quindi questa qui è la situazione al momento. Guido. Buonasera. Buonasera. ma chiamo Francesco ciao 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 io Si può servire soltanto al tavolo, ciao ciao guarda Tutte le barre vogliono servire esclusivamente al tavolo, gli altri dalle di sotto sono costretti a chiudere Siamo arrivati a San Francesco e passiamo anche qui a questo breve video, alla prossima, ciao